Dopo diversi anni si sono stati inseriti alcuni punti critici che non erano stati considerati, ovvero sia le pipeline della Piana di Gela e i pozzi sia in produzione che quelli cessati. Più la discarica di Marabusca, che è una discarica che più volte è salita agli oneri della cronaca e che rappresenta una zona altamente inquinata. Questi sono stati i punti che sono stati proposti per l'ampliamento del SIN di Gela con quasi tutti i presenti concordi per poter puntare su dei luoghi che siano potenzialmente inquinati. Vi erano delle proposte per ampliare il SIN su tutto il Golfo di Gela e su tutta la Piana di Gela. Su questo noi ci siamo posti per un motivo molto semplice perché avrebbe impedito qualsiasi attività all'interno di tutto il nostro territorio e questo non è possibile. Noi dobbiamo tutelare le persone, tutelare il nostro territorio ma consentirci di poterci pure vivere. E questi porteranno dei benefici? Questo ampliamento serve per attenzionare determinati problemi che fino adesso non erano stati ben sottolineati. Noi speriamo che con questo ampliamento che dovrà passare comunque dal Consiglio Comunale si facciano immediatamente certi interventi per restituirli immediatamente alla frizione perché un SIN esiste solo perché non è stato bonificato. Il nostro intentimento è inserire queste linee per consentire di avere delle linee monitorate costantemente quindi le pappalane della Piana e di poter andare a intervenire su siti inquinati da decenni che fino adesso nessuno ha voluto metterci in mano come la discarica di Marabusca. È una forzatura per consentire di poter bonificare tutta la Piana e non limitarci soltanto all'area industriale.